Altro argomento è quello dei divieti per i camion al di sopra dei 18,5 tonnellate in alcune zone e 16,5 tonnellate camion e pullman in altre zone. 16,5 ponte di Buonopane, 18,5 casamicciola. Ha fatto un grande clamore la dichiarazione del sindaco che ha detto che bisogna far rispettare questi divieti. Lei che pensa? Si fermerebbero però tutti i trasporti con questi divieti perché non potrebbero transitare i camion che sbarcono a casamicciola, non possono arrivare a Dischia e non potrebbero arrivare neanche a Barano. Da quanto tempo si sono le prescrizioni? Queste prescrizioni da circa 30 anni che ricordo io, quando ci fu la frana della strada nei pressi del Maonà in via Salvatore Girardi. Io non posso che dirle, se le regole esistono devono essere rispettate, ma devono essere rispettate immediatamente e se negli anni qualcuno ha deciso di non farle rispettare ci sarà un motivo, ma bisogna chiederlo praticamente a chi è competente per materie. In effetti, molte strade dell'isola non hanno la capacità di sopportazione per quanto riguarda questi pesi. Bisogna chiederlo a chi è una competenza per materie e soprattutto chi è legittimato al controllo. Penso che sia una competenza soprattutto della polizia locale.